Al mondo ci sono moltissime moto, molte arrivano e passano, poche restano impresse nella memoria, pochissime sono immortali. In questa serie racconteremo proprio loro, modelli nati dal genio creativo di designer e tecnici, moto che non sono più nemmeno moto, sono leggende. A raccontarcele sarà Michele Cito, professione designer, ma con una passione per la moto che va oltre il viscerale e non parleremo solo di design, parleremo anche di storia. In questo episodio di Red Legend parliamo di Ducati 916. Ciao a tutti! 916, dopo sole tre puntate eccoci a parlare della regina delle moto Red Legends. Ma prima di iniziare, se questa serie vi piace, cliccate like e se ancora non lo avete fatto, pazzi! Seguite il canale di Red. Com'è stato possibile un fenomeno come quello della 916? Quali sono stati gli elementi che hanno reso magico questo modello? Una moto dalla forza talmente grande da rimanere in vetta per quasi un decennio. Tanto speciale nel cuore di Ducatisti che per la Ducati divenne un problema a sostituirla. Tanto forte da aver condizionato il design di tutte o quasi le successivi Ducati, compresa l'ultimissima Panigale 2025, che per stessa ammissione di chi l'ha disegnata, si ispira proprio alla 916, a oltre 30 anni dal lancio. Secondo me la sua grandezza sta nella sua forma, nelle sue vittorie e nella sua personalità. Cominciamo dalla sua forma, la più immediata delle sue caratteristiche, e per raccontarla partiamo dalla protagonista della scorsa puntata, la RC30. Già, ma cosa c'entra una V4 giapponese anni 80 con la nostra 916? Le innovazioni da sempre vengono sparate nell'aria e finiscono per andare in cerca di chi è abbastanza sensibile da lasciarsi ispirare. La genialità, la bellezza, non sono fenomeni caduti dal cielo, isolati nello spazio e nel tempo, ma come cerco di raccontarvi con questa serie, sono il prodotto di un contesto. Così come la storia di Leonardo da Vinci sarebbe stata diversa senza il rinascimento, fatte le debiti e proporzioni, anche quella di Massimo Tamburini sarebbe stata differente senza le grandi innovazioni tecniche e stilistiche portate dai giapponesi negli anni 80 e 90. Idee che poi lui ha ridefinito, reinventato grazie al suo genio. Nel 1987 la RC30 e successivamente la NR e altri concept hanno impressionato il mondo e in qualche modo hanno influenzato il design sia delle altre giapponesi sia delle moto europee. Il CORE di Tamburini, centro operativo Rimini, poi traslocato a San Marino e ribattezzato CRC, proprio durante la gestazione della 916, era una piccola squadra guidata da un capo geniale affiancato da un paio di giovani designer, oltre che da valenti tecnici e artigiani in grado di fare la differenza nello sviluppo della moto. Quindi per descrivere il design della 916 abbiamo già due importanti ingredienti, le positive influenze di altri costruttori e l'astrale magica concomitanza di una decina di uomini sotto la guida di Tamburini e finanziati dalla famiglia Castiglioni. Il terzo ingrediente per spiegare il design della 916, se siete stati attenti nelle puntate precedenti lo sapete, è la meccanica, la base su cui sono state sviluppate le sue linee. Linee impossibili da replicare su una meccanica diversa, un layout anch'esso impostato dal maestro di Rimini, ma fedelissimo ai capisaldi della storia Ducati di quel periodo. Il bicilindrico L, in questo caso il leggendario Desmo 4, progettato da Massimo Bordi, portato da 888 a 916 cm3, inserito in un telaio al traliccio in tubi in acciaio al cromo molibdeno. A questi elementi si aggiungono alcune innovazioni che si trasformarono ben presto in tradizione. Il monobraccio, già visto su alcune onda, è una ciclistica estremizzata nelle misure di interasse e canotto di sterzo, qualcosa di mai visto prima su una moto stradale. Solo con questa architettura è stato possibile realizzare una moto così stretta trasversalmente e così corta longitudinalmente. Il processo di sviluppo fu piuttosto lungo, i programmi per le rede dell'888 iniziarono alla fine degli anni 80 e la nuova moto venne presentata solo nel 1993. Dopo aver preso inizialmente spunto dalle 502 tempi dell'epoca, il team di tamburini iniziò a osservare la RC30, che ispirò l'utilizzo del monobraccio e il disegno di un codone fortemente inclinato e tridimensionale. Perfino la fanalleria posteriore, con i due rettangoli rossi a filo con la carrozzeria, sono di evidente ispirazione RC30. Poi arrivarono i concept Suzuki Nuda e Honda NR, e quindi ecco un nuovo ribaltone sulla maquette di stile. L'obiettivo della 916 era quello di essere all'avanguardia e Tamburini non si volle accontentare. Arrivò quindi un nuovo cupolino affilatissimo con due sottili fari orizzontali, tanto piccoli per l'epoca da diventare una sfida di fattibilità. Nessun fornitore aveva mai fatto niente di simile. Perché le idee non basta averle, ben più difficile è adoperarsi per la loro realizzazione senza snaturarle, anche quando sembrano impossibili da concretizzare. Sviluppare un nuovo faro innovativo o cambiare la forma degli scarichi sotto coda, da tondi a ovali per dare più spazio all'escursione della ruota, non sono cambiamenti banali. Castiglioni e Tamburini si sono sempre contraddistinti per la mentalità del nuovo, a tutti i costi, senza compromessi. Questo li ha esposti a enormi costi di ricerca e sviluppo, a dispendiosi test, a costosissime attrezzature. Una follia dal punto di vista imprenditoriale, ma l'ideale per la bontà del prodotto. Gli appassionati del web la chiamano anche serie perfetta, perché nonostante abbia indicato diversi modelli che hanno fatto parte della fase di ricerca del design, gli elementi sulla 916 sono amalgamati con equilibrio mirabile, con la proporzione tipica del design all'italiana, quel tipo di design capace di resistere al tempo che passa. Un connubio eccelso di eleganza e sportività, i cui stilemi, seppur già visti su altre moto, appaiono comunque originali ed autentici, come se Tamburini li avesse reinventati. Le fiancate sono semplici, avvolgono come una minigonna un corpo statuario. Il serbatoio è sinuoso, la moto è talmente stretta che in sella le due gambe si avvertono vicinissime. Come da tradizione Tamburini, la posizione di guida è da moto da corsa, con una grande predilezione per l'avantreno. I semimanubri sono sotto la linea delle piastre di sterzo, i polsi sono estremamente caricati e se non si è abituati il disagio iniziale può essere notevole. Però anche queste caratteristiche, che fuori dalla pista hanno poco senso, rendono la 916 bellissima. L'avantreno così caricato in avanti e la coda tesa e alta la rendono complessivamente molto dinamica, perfino oggi, 31 anni dopo. Ok, abbiamo parlato di design, adesso parliamo delle sue vittorie. Nata per sostituire la 888 anche in pista, la 916 ha vinto il mondiale superbike già nel 1994 con King Car Fogarty, replicando nel 95 e arrivando nuovamente al titolo nel 96 con Troy Corsair. Evoluta prima in 996 e infine in 998, si confermò vincente per circa un decennio, rimanendo sostanzialmente invariata nel concetto originale. Nel cuore di ogni vero appassionato di motociclismo c'è il fotogramma di una Ducati rossa che vola tra le curve. Siano esse quelle di Fogarty o Corsair o come la leggendaria numero 21 di Bayliss, che ogni tanto mi sfonda a ricordi pieni di nostalgia, come lui sfondò la prima variante di Monza nel 2000 infilando quattro avversari e facendoci impazzire tutti. Storia dei motori con la S maiuscola, accompagnata da voci che purtroppo non ci sono più. Una moto micidiale è tutt'altro che ferma anche nelle mani di team non ufficiali, anche quando era già arrivata la sua sostituta, chiedere a James Toseland, Regi Laconi o Pierfrancesco Chili. Considerando 916, 996 e 998, il palmarès parla di sei titoli mondiali piloti e otto costruttori, senza dimenticare la piccola gialla 748 del mondiale Supersport 97 con Paolo Casoli e le innumerevoli vittorie nei campionati nazionali e internazionali. Insomma, una vera leggenda. Design e sport ok. Infine, la personalità. Perché la 916 è una di quelle moto che, quando la vedi, ancora oggi il mondo si ferma. Il suo aspetto e ancora di più la sua guida sono spesso accompagnate da una teatralità ineguagliabile, che coinvolge almeno 4 dei 5 sensi. La bellezza sconvolge la vista, il calore emanato dalla meccanica punge nel tatto e manco a dirlo, i suoi scarichi, la martellante frizione a secco, la tonante aspirazione in piena accelerazione suonano come il più entusiasmante dei concerti. Il bicilindrico old school made in Borgo Panigale odora di autentico, di meccanica vera. Indipendentemente dalla cubatura. Da guidare è una moto tosta, in stile tamburini, con l'avantreno granitico e in generale con una ciclistica da condurre senza esitazioni. La dovete possedere, dovete comprenderla. Se la guidate piano, titubanti, indecisi, sarà impacciata e non molto piacevole. Usatela invece con fermezza e cambierà atteggiamento, ricambiando con precisione e velocità, diventando ad un tratto fluida e dolce. È fatta così, prendere o lasciare. Dal 94 al 98 vi fu il regno della 916, dal 99 al 2002 invece, sotto la nuova gestione Texas Pacific, le succedette la 996, evoluta e con il motore maggiorato, e quindi con un carattere leggermente diverso, ma sostanzialmente identica alla precedente nel design. Nel 2000 arrivò la 996R, che a dispetto del nome montava il nuovo testa stretta 998, ormai vicinissimo alla cilindrata piena. 998 che divenne anche il nome del modello dal 2002. Queste ultime sono state entrambe battezzate dal nostro direttore, Stefano Cordara, in occasione dei rispettivi lanci di presentazione. E vedete qualche foto. Al contrario di 916 e 996, la 998 presenta degli aggiornamenti estetici più significativi. Pierre Terblanche, uscito dalla CRC e rimasto alla guida del nuovo centro stile, è come se avesse voluto celebrare il design originario, ripulendolo dal superfluo ed elevandone l'essenza, togliendo qualche sfogo dell'aria e lavorando sui dettagli. Una sorta di cerimonia per l'ultima della stirpe, prima della rivoluzione di là da venire. Bellissimo. Quindi per concludere, nel 1993 il mondo venne scosso dall'arrivo della 916. Finalmente anche un produttore europeo aveva reagito allo strapotere tecnico giapponese. Certamente il mercato era tutta un'altra storia, ma la reazione era arrivata e fu devastante. Lei aveva alzato enormemente l'asticella e obbligò tutti i costruttori a correre dietro. Perché da lì in avanti fu un'escalation, una continua estremizzazione che non si è ancora arrestata. Grazie a Moto Argento per averci prestato questa bellissima 916 SP3. Grazie a tutti.